E' francamente intervenire adesso dopo l'intervento di Maurilio se non sbaglio e sulla convergenza appunto delle lotte perché questa retorica della contrapposizione dei lavoratori qualche volta l'abbiamo sentita anche al nostro interno e quindi ripeto mi fa piacere intervenire. Io come diceva Diziano sono un eletto RSU Club della Sogesid S.p.a che è una società 100% pubblica di proprietà del Ministero delle Finanze in house presso il Ministero dell'Ambiente. Quindi appunto vi porto la mia esperienza, i miei colleghi, i miei compagni, un'avvertenza che coinvolge sicuramente la società, la Sogesid, ma che come dire implica anche delle criticità del Ministero dell'Ambiente e più in generale il meccanismo di buona parte della nostra pubblica amministrazione. Quindi appunto adesso vediamo i rider e quest'altro tassello della pubblica amministrazione e delle partecipate. Ecco, il Ministero dell'Ambiente che è solitamente considerato un ministero di serie B, detto proprio fuori dai denti, ma che in questi giorni come vediamo risulta essere al centro dell'attenzione per i temi del recovery plan e della transizione ecologica. Basti pensare a quei 200 miliardi di fondi, 200 miliardi di euro di fondi che appunto arrivano dall'Europa e dei quali circa il 30% deve essere speso per questa appunto transizione ecologica, cosiddetta transizione ecologica. Sogesid presta un'attività di supporto tecnico presso il Ministero dell'Ambiente, ma come molte partecipate nell'ambito della pubblica amministrazione sopperisce ad ataviche carenze strutturali di organico dei ministeri, considerare che per esempio il Ministero è contraddistinto fin dalla sua istituzione negli anni 80 dall'assenza di concorsi, concorsi pubblici. Qualche dato forse relativo agli ultimi anni mi aiuta a illustrarvi rapidamente i termini del fenomeno, circoscriverlo, spero in maniera significativa, e che ho tratto da documentazioni varie che sono il conto annuale del Ministero dell'Ambiente, i bilanci Sogesid e le relazioni della Corte dei Conti che ogni anno appunto si occupano delle convenzioni. Non vi preoccupate, sono molto breve su questo. Allora, il primo dato molto significativo è che il rapporto tra il personale Sogesid e il personale complessivamente impegnato del Ministero dell'Ambiente era pari al 70% nel 2015, all'82% nel 2016, 77% nel 2017 e così via in maniera alternelante fino ai giorni nostri, fino ad oggi, con queste percentuali molto impressionanti. impressionanti. Il secondo dato che volevo appunto presentarvi è che la maggior parte del valore della produzione attuale di Sogesid, circa il 64%, è costituita dalle convenzioni che appunto la Sogesid dà in essere per l'assistenza tecnica al Ministero dell'Ambiente. Inoltre, il personale dipendente a tempo indeterminato della Sogesid è circa 500 dipendenti, con un'età media di 42 anni. Il personale della Sogesid ha visto un valso impressionante tra il periodo precedente all'anno 2015, in cui si contavano tra i 100-150 dipendenti diciamo a crescere fino al 2015, con un valso appunto ai 500 circa dipendenti attuali, dovuto all'assunzione di nuovo personale con il cosiddetto appunto Jobs Act, che ha consentito di stabilizzare per cari storici che in sistema che lavoravano presso il Ministero dell'Ambiente, con varie tipologie di contratto da università, enti di ricerca e altre istituzioni, e altri lavoratori appunto assunti per selezione. Il personale in generale è di tipo tecnico, con competenze anche estremamente specialistiche, ma è anche amministrativo. Quindi, diciamo, sintetizzando con questi dati, è una società che è evidente, che dipende quasi del tutto dalle convenzioni con il Ministero dell'Ambiente, e quindi un caso di appunto esternalizzazione molto significativa, che consente tuttora questo doppio regime di contratti, di diritti, che è un fenomeno appunto diffuso nell'APA, come immagino poi parleranno altre avvertenze dopo di me. E dunque appunto nel 2015 questa stabilizzazione dei lavoratori ha portato, come dire, finalmente questa cognata serenità di noi lavoratori, che pensavamo appunto di avere acquisito. Invece, partire dal 2018, il primo governo, il Conte 1, scusate, con una serie di, inizialmente di atti del Ministro Costa e Cinque Stelle, e poi definitivamente con la legge di bilancio del 2019, con un comma particolarmente, pervicacemente voluto dai Cinque Stelle, si è prevista, ma proprio una progressiva dismissione, nel giro di pochi anni, delle convenzioni di Sogesid con il Ministero. E appunto Sogesid, che come avete visto, come ho detto, insomma ha fornito dipendenti, competenze, professionalità in tutti questi anni. Tutto questo, questa dismissione, senza prevedere alcuna soluzione di alcun genere per noi lavoratori Sogesid, o per la società stessa, che abbiamo visto da quei pochi dati che ho riportato, ad essere strettamente dipendente dalle convenzioni con il Ministero dell'Ambiente. Anzi, la stessa legge di bilancio prevedeva un concorso, il primo concorso per il Ministero dell'Ambiente, però senza alcun riconoscimento delle professionalità, delle esperienze, insomma, di noi lavoratori Sogesid, in questi anni al Ministero, e che abbiamo andato avanti sostanzialmente le politiche ambientali del Paese. Addirittura nella retorica del governo Conte, dei Cinque Stelle in particolare, il concorso era presentato in maniera, come dire, positiva, no? In contraposizione con noi lavoratori, con slogan tipo Largo ai giovani, appunto, ho detto, l'età media dei lavoratori Sogesid, 42 anni. Finalmente, Largo alla meritocrazia, come se tutti i precari, appunto, non avessero alcun, insomma, guadagnato alcun merito, alcun diritto. Un concorso, tra parentesi, peraltro, strutturato in una maniera, francamente, della brutalità da incompetenti, perché vede, appunto, oggetto materi, che sono in gran parte quasi assolutamente estranei a quanto viene richiesto a chi lavora al Ministero, alle competenze che occorrono per lavorare al Ministero dell'Ambiente. E quindi, sostanzialmente, per opporci a questa, come dire, cronaca di una morte annunciata, di una crisi occupazionale imminente, anche se non, come dire, scadenzale nel corso del tempo, e quindi, tra l'altro, frammentando i lavoratori e indebolendo pure l'azione sindacale, un gruppo consistente, un gruppo, appunto, di lavoratori, abbiamo, come dire, fin dall'inizio avviato un nuovo processo organizzativo, abbiamo costituito un coordinamento e ci siamo sindacalizzati, appunto, con le CLAP, considerare che molti di noi non avevano alcuna esperienza sindacale, che ha conseguito, appunto, tra i vari risultati, questa, appunto, affermazione elettorale e RSU, siamo in due, sono io e, appunto, Laura Marini, che non è RSU costituita da dieci esponenti, con gli altri che sono, appunto, i confederali. Abbiamo, come posso dire, consolidato, rafforzato, forse anche apportato, una nuova dialettica sindacale, no? Abbiamo messo al centro sempre la voce dei lavoratori, quella delle assemblee, a differenza di quanto poi era stato fatto in precedenza e tuttora tendono a fare, appunto, i rappresentanti RSU di CGL, CISD e Will, ahimè. Quindi, la nostra lotta e il confronto sindacale sono stati inizialmente confinati nel perimetro, insomma, come dire, angusto della società, appunto, con la contrattazione di secondo livello e le tematiche relative alla dismissione e poi, successivamente, finalmente ha chiamato in causa il governo e il ministro. La nostra avvertenza, fino ad oggi, è stata incostellata da cinque scioperi, presidi, flash mob, interlocuzioni con i politici e, come dire, in una fase iniziale ha visto la partecipazione unitaria, appunto, con i confederati e poi, sostanzialmente, adesso, appunto, in maniera molto sintetica, comunque, diciamo, negli ultimi tempi abbiamo portato avanti soltanto noi club. E devo aggiungere anche all'interno, appunto, la contrattazione di secondo livello, il clima interno alla società non è dei migliori, insomma. Ecco, questo è un quadro di sintesi nel quale si viene a trovare questo processo che, appunto, leggiamo sui giornali di transizione ecologica. Questo è un dietro le quinte. E vorrei riaffermare, anche, insomma, semplificando, e con questo vado a chiudere, quanto detto prima da Emanuele e Leonardo, se non sbaglio, che, appunto, che le lotte per i temi ambientali, a partire dal clima e tutti gli altri, la biodiversità, che, tra l'altro, è una, trovo la ceniera dentro, le temi ambientali, sono, appunto, fortemente correlate con le questioni del reddito, del salario, del welfare, di genere, di cui si è parlato fino ad ora. E, correlati fortemente, quindi, appunto, come il titolo di questa iniziativa, secondo me occorre proprio rovesciare il piano anche in questo ambito, nell'ambito della transizione ecologica. Rovesciare, appunto, cambiare il paradigma, fare una sorta di rivoluzione governicana dell'intera struttura sociale, senza lasciare, come dire, come senza scindere i vari aspetti e temi. Quindi, un cambiamento, appunto, sia dal punto di vista produttivo, sociale, gestionale, di genere. Invece, viceversa, a fronte di questo, mi sembra che sia in atto soltanto un cambiamento di facciata, una tinteggiata di green, del nuovo ministero, quanto andrà a ricalcare le funzioni dell'ex ministero dell'ambiente, con le competenze dell'energia. E' stato chiamato un neoministro tecnico, ma dalle posizioni, da quello che ho letto, fino ad oggi, abbastanza ambicue, insomma, non definite, anche, insomma, per i suoi incarichi che ha avuto, e che sicuramente va a collaborare con ministri neoliberisti, vicini a Confindustria, e addirittura con posizioni, ricordo, appunto, Giorgetti, negazioniste sul tema del clima. Ecco, e con questo vi ringrazio. Grazie.